Gli studenti teramani vanno avanti imperterriti lungo la strada della protesta e dopo quattro giorni di autogestione, seguito dal megacorteo di venerdì scorso, da ieri hanno alzato il tiro, occupando le strutture scolastiche giorno e notte. Come state gestendo questa occupazione? Per il momento abbiamo previsto dei corsi gestiti dagli stessi ragazzi dal momento che, essendo questa un'occupazione, non possiamo trovare la collaborazione dei docenti. In ogni caso abbiamo cercato di evitare l'interruzione delle attività didattiche permettendo ai professori di tenere lezioni di potenziamento e recupero e se sono presenti i due terzi della classe è possibile anche andare avanti con le stesse lezioni. Il messaggio che rischia di passare in questi giorni è che lo avete fatto come negli anni passati. Noi non siamo fannulloni che non vogliono fare nulla e quindi saltiamo cinque giorni di scuola in seguito a un autogestione e un corteo. Questo è per rafforzare ancora la presenza delle scuole italiane pubbliche che vogliono protestare contro questa famosa legge prea. Di conseguenza nelle nostre scuole ci saranno dei corsi per sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo alla questione nazionale. In seguito anche le persone che vogliono seguire le lezioni possono farlo tranquillamente. Nell'occupazione di quest'anno cosa cambia rispetto agli anni passati? Nelle altre occupazioni le persone venivano qui solamente per perdere tempo e non fanno nulla. Invece abbiamo dei corsi a partire dalla mattina tutto il pomeriggio e poi la sera un po' di relax tra i pochi ragazzi che rimangono nell'istituto. Non tutti i dirigenti scolastici hanno però accettato di buon grado l'evolversi della protesta. Al liceo scientifico Einstein di Teramo infatti è grande il difetto di comunicazione tra il dirigente scolastico e i rappresentanti dell'istituto. Questi ultimi, nel voler dimostrare che nonostante l'occupazione i ragazzi continuano a svolgere l'attività didattica, ci hanno invitato ad entrare nell'istituto. Un gesto che è stato interpretato come una sfida dal dirigente scolastico che, contrariato alla vista delle telecamere, ci ha impedito di filmare all'interno delle aule le attività svolte dai ragazzi, invitandoci ad uscire. Come sono i rapporti con i docenti e con la dirigenza? Beh, essendo un'occupazione e quindi una cosa non legale, i professori, alcuni, stanno alzando un muro contro noi perché dicono che noi non vogliamo studiare. Noi ribadiamo che questa è una forma di protesta in cui difendiamo il nostro diritto allo studio. Quindi speriamo che il loro pensiero possa cambiare. Come vengono gestite le presenze? Ecco, su questo c'è ancora molta ambiguità, nel senso che fino a questo momento non siamo riusciti a chiarire la questione delle presenze direttamente con il Preside. Quello che sappiamo è che all'inizio della giornata occorre fare un appello per assicurarsi della presenza dei ragazzi, anche occupanti. e quindi per un fatto esclusivamente di sicurezza. Per il resto dovrà essere tutto appuntato dai professori, quindi l'eventuale partecipazione alle lezioni, l'eventuale uscita dalla classe, tutto verrà segnato su un registro che in realtà non è quello ufficiale. Quindi ci aspettiamo che anche su questo fatto venga fatta maggiore chiarezza.